Catanzaro, un rogo nella notte divora sei auto. Notte di fuoco, quella tra sabato e domenica, e tanta paura nel quartiere marinaro di Catanzaro. Sei auto, regolarmente parcheggiate nel piazzale antistante e la chiesa di Giovino, sono state distrutte dalle fiamme. Sul posto si sono prontamente recati i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e i poliziotti per gli accertamenti del caso. Si cercano adesso elementi utili a individuare gli autori di quello che appare a tutti gli effetti un incendio doloso in un quartiere che resta ostaggio della microcriminalità organizzata. Dalle prime verifiche effettuate dai vigili del fuoco congiuntamente alla polizia di Stato, probabilmente l'incendio ha interessato inizialmente una minicooper andata completamente distrutta, propagandosi immediatamente ad ulteriori cinque vetture ed un furgone parcheggiati in prossimità. È in corso l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza della zona per la ricostruzione dell'accaduto.